100 euro per il tuo tablet usato se passi al Lenovo Yoga Tablet 10, l'unico che si adatta a te grazie alle sue 3 modalità d'uso, fino a 18 ore di autonomia e 3G opzionale. Yoga Tablet, il primo tablet multimodalità al mondo, l'ultimo nato in casa Lenovo, l'azienda oggi leader mondiale nei PC. Acquistalo in una delle migliori catene di elettronica oppure online e rottamando il tuo vecchio tablet ricevi 100 euro. Regolamento completo sul sito Lenovo. La promozione scade il primo giugno.